Il Lavagna 90 vince e convince con il Sori nel primo atto dei play-out di A2. Adesso la testa è a mercoledì sera per gara 2 in cui i bianconeri possono chiudere i conti e conquistare la salvezza. Sabato la squadra allenata da Andrea Martini si è imposta per l'11-5 nella piscina del parco Tigullio. Partita equilibrata nella prima parte fino al cambio di passo dei padroni di casa che c'entrano un parziale di 5-0 nella seconda metà di gara. Diciamo che i play-off sono sempre delle gare difficili, ci aspettavamo comunque una squadra preparata, una squadra che comunque aveva voglia di salvarsi. I primi due tempi si è visto, sono rimasti testa a testa con noi, ce la siamo giocata, poi è uscita forse un po' la nostra forma fisica, anche un po' i valori in campo forse, non so. O anche la voglia di vincere è forse maggiore la nostra che la loro e quindi nel terzo tempo si è visto che c'è stato questo distacco. Sicuramente noi nei primi due tempi abbiamo veramente capitalizzato pochissimo tutto il gioco che abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo prodotto, tante espulsioni a favore, pochi gol, è vero. Però Sori ha impostato un'ottima difesa, è stato molto bravo anche il portiere benvenuto e devo dire la verità io sono molto soddisfatto e allo stesso tempo sono già con la testa mercoledì per la partita del ritorno perché so che sarà un'altra battaglia anche se devo ammettere che mi ha fatto ben sperare il finale perché mi ha dimostrato che la squadra c'è di testa, che la squadra c'è fisicamente. Le gare di play-out di A2 sono alla meglio dei tre, conquistata gara 1 al Parco Tigullio, a Lavagna 90 serve un'altra vittoria per salvarsi. L'occasione può essere già mercoledì alle 19.30 in trasferta, si gioca da pallo in una piscina scoperta. Questa seconda partita è difficile, difficile perché in un campo all'aperto non l'abbiamo ancora giocato quest'anno, quindi bisogna interpretarla bene. Ci siamo allenati qualche volta a Rappallo per studiare un po' il campo, siamo pronti, vediamo. Oggi sicuramente ci ha dato fiducia.